5.9 il 20 maggio 2012, 5.9 il 6 aprile 2009, in una casistica dove terremoti forti partono dai 6.0 gradi Richter, 5.9 gradi Richter e un terremoto di media potenza, per un solo 0,1 gradi Richter. Così tutto sembra normale, eppure i terremoti sono in aumento, con l'avvicinarsi del pianeta Nibiru e da qui l'influsso sulla Terra e sui pianeti del Sistema Solare. Ci saranno nuovi terremoti ed eruzioni vulcaniche anche nell'autunno del 2012 negli Stati Uniti d'America, California, Italia e area mediterranea. Oggi è il 24 luglio 2012. Successivamente a questi eventi, sappiamo, torneranno le creature extraterrestri dal pianeta Nibiru sul pianeta terra. E così ci sarà di nuovo questo incontro tra creature dell'universo, tra fratelli, una cosa bellissima. Adesso, siccome siete stati molto gentili a vedervi, vi faccio una visita turistica. Un antico ponte della Vallolona. con le sue arcate. e questa è l'altra parte.